5, 4, 3, 2, 1, vai! Sì, sinistra 5, bravo, tienila, tienila, 50, accendo sinistro e subito tornante destro! Bravo, bravo, 50, accendo sinistro, destro e subito tornante sinistro, subito tornante sinistro! Per sinistra 3, bravissimo, 50, destra 5, 150 poi, quindi andiamo, eh! A vista, attenzione, sconnesso in staccata, sconnesso in staccata, per tornante destro! Bravo, bravo, sinistra 5, tutto pieno, per destra 5, in sinistra 5, falla piena, 150, tornante sinistro là in fondo! Bravo, per destra 5, poi 50, quindi andiamo al palo, sinistra 5, 50 ancora, destra 4, qua che vedi, per sinistra 4, per sinistra 4, vai, vai! E 50, sinistra 4, taglia, occhio interno, 20, albiri, destra 3, apre, poi 100, apre, e poi 100, bravo, bravo, sinistra 4, 100, tutto pieno, eh! Bravo, Andrea! Là in fondo, destra 5, in sinistra 4, lunga fino al paletto, la 4 qua, lunga fino al paletto, 50, addosso al paletto, attenzione, per il cartello rovescio, accendo sinistro, e per tornante destro, bravo, bravo, 100 destri poi, vai, vai, bravissimo! Per tornante sinistro, bravo Andrea, bravo! 50, destra 4, in accendo sinistro, sconnesso, destra 4, in accendo sinistro, sconnesso, in staccata, per tornante destro! Bravissimo Andrea, bravo, 50 poi, eh! Tornante sinistro! Bravo Andrea, esci forte, esci forte adesso, 150, 150, sconnesso, in staccata, per tornante destro! Poi 100, bravo Andrea, bravissimo, 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 100, tornante sinistro qua! Uso un po' di leva, forse, eh! Bravo, 100, bravo, 100, sinistra 4, meno, opera il cartello, destra 3, chiude, è quella che inganna questa, destra 3, chiude, molto inganna! Bravo, buttala dentro, buttala dentro, 50, bravo! Sinistra 4, 50 al muro, sinistra 3, meno lunga, per tornante destro sale! Lunga, per tornante destro sale! Bravo Andrea, bravo, 20, bravo, andiamo, destra 4, vai tranquillo, 20, destra 3, meno, per tornante sinistro! Bravo, 50, bravo, 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 vai, vai, 50, sinistri! In sinistra 3, 20, al cartello, destra 3, e sfrutta il 50 dopo la 3, sfrutta il 50! Bravo, al cartello, destra 3, meno, e subito tornante destro alla roccia, la roccia che vedi, tornante destro! Bravissimo, bravo, 20, bravo, tornante sinistro, stretto, sporco! Bravo, bravo, vai, per destra 2, bravo Andrea, in, ritarda, sinistra 3, quella che inganna! E per destra 2, lunga, all'ultimo paletto, chiude, forse sporco! 50, bravo, andiamo adesso, andiamo, 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 destra 4, 50, accendo sinistro, 20, al vuoto, sinistra 4, forse pieno, forse pieno qua! Puoi rischiare se vuoi, dai, tienila, bravo Andrea, bravo destra 5! 50, sinistra 3, fai scorrere, 100, ai fiori, destra 3, in, sinistra 2, destra 3, in, sinistra 2, e per destra 2, meno, sudosso, subito allo specchio, sinistra 2, attenzione, occhi interno, occhi interno, subito, destra 2, 20, bravo Andrea, destra 2, 50! Sinistra 3, attenzione, stretto tra le case, per destra 3, occhi interno, e poi 20, sinistra 3, sfiora, 50, destra 3, qua, 30, sinistra 3, due tempi, fino alla panchina, e poi 20, 20 poi, destra 3, lunga, e subito sinistra 3, 50, destra 4, sporco, forse, 30! Sinistra 3, 100, al cemento, ritarda, destra 2, subito, sinistra 3, due tempi, una due tempi questa, 20, due tempi, eh, 20, al cartello, sinistra 3, 50, alla casa, sinistra 2, chiude, attenzione, occhio interno, chiude, attenzione, occhio interno, subito, destra 2, e 20, destra 3, lunga, 100! Sinistra 3, due tempi, chiude, alla seconda, alla seconda, chiude, qua, 50, ritarda, destra 3, 50, al rosso, sinistra 3, per destra 3, subito, sinistra 3, 50, ritarda, destra 3, più apre, 50, sinistra 3, al cartello, 30, ritarda, destra 2, chiude, e subito, sinistra 3, lunga, lunga, chiude al cartello, 50, dai, quasi finita, 50, destra 4, in sinistra 5, bravo Andre! tolto quel pieno era basta, sì, che rischio ragazzi! era troppo pieno quello!